Nella nostra terra, nel Trentino Alto Adige, sono state realizzate, come tutti sappiamo, ad iniziare dal secondo dopoguerra avanzate forme di sperimentazione, di convivenza fra gruppi etnici diversi. Vi è stato il convergere di sforzi a livello locale, nazionale ed internazionale. Ora abbiamo prodotto questo modello, il quale viene considerato oggetto di attenzione da varie parti in Europa ed anche al di fuori dell'Europa. Credo che sulla base dell'esperienza che abbiamo maturato, sulla base dei contatti che sono stati attivati con varie realtà in cui vi sono problemi di convivenza etnica e di soluzioni di conflitti etnici, sia opportuno promuovere un altro progetto avanzato di coinvolgimento internazionale. I conflitti etnici purtroppo sono ancora molto frequenti in Europa ed in altre parti del mondo. Non è che i problemi siano risolti e vi sono varie scuole di diplomazia nel mondo, soprattutto in Asia ed in America, le quali sono impegnate nell'andare alla ricerca di soluzioni per trovare progetti, per trovare vie pacifiche alla soluzione dei conflitti etnici. In varie università americane ed asiatiche si istituiscono corsi speciali per quanto riguarda la soluzione dei conflitti etnici. Personalmente ho avuto anche recentemente contatti con scuole di diplomazia in America e in Asia e vi è questa esigenza sempre più profonda. Ora noi credo che nel Trentino Alto Adige dobbiamo considerare questa realtà sotto due punti di vista. Primo, c'è anche un obbligo di offrire agli altri il frutto della nostra esperienza per contribuire alla risoluzione di conflitti etnici per garantire forme pacifiche di convivenza. Dall'altra parte vi è l'opportunità di creare contatti internazionali che sono molto utili non solo per il problema specifico ma anche per dare un ancoraggio internazionale a questa nostra piccola terra, un'esigenza che è fondamentale nel mondo della globalizzazione. A riguardo un progetto concreto dovrebbe essere quello di far sì che il Trentino Alto Adige diventi una scuola per la formazione, per ciò che riguarda la convivenza etnica, le questioni etniche e la risoluzione dei conflitti etnici, la formazione dei futuri diplomatici, soprattutto penso in questo momento diplomatici dell'America e dell'Asia. Questa disponibilità c'è, è necessario a mio avviso creare un vero e proprio progetto con la convinzione, se c'è, da parte delle istituzioni autonomistiche e da parte delle fondamentali agenzie culturali della nostra terra per dar vita a questa promozione che è un'offerta di esperienza ma anche una grande occasione per creare amicizie, per creare contatti internazionali utili per l'intera comunità. Grazie a tutti.